Questo fine settimana, mentre chi è rimasto a casa si organizzava per fare trasloco, ci sono stati tre nostri allievi che hanno fatto la loro ultima trasferta dell'anno all'Orsos Riviera Resort di Cattolica, una delle più grandi e belle strutture d'Italia che ospita numerosi concorsi internazionali e nazionali tutto l'anno. Essendo inverno, la gara si è svolta nel campo indoor, soprannominato Aquario, una struttura molto grande e bella per ospitare le migliori gare. Prossimamente vi presenteremo tutti i nostri cavalli, ma soprattutto i cavalieri, ma nel frattempo vi diamo i risultati della gara di questo weekend. La prima è la piccola Angelica, sull'NV, che si è piazzata in tutti e tre i percorsi, partecipa al Bronze Tour e si porta rispettivamente al quinto, terzo e quarto posto, facendo degli ottimi percorsi. La seconda ad entrare in campo è Camilla, che partecipa con entrambe le sue bellissime cavalle nelle categorie 135 e 140 e ottenendo l'ottimo risultato sabato nella 135, piazzandosi seconda. La prima cavalla che vediamo in campo è Jamaica, detta JJ, mentre la seconda che vediamo in campo ora è Tuscia. Per gli amici, tutti. Il terzo è il nostro Super Valerio, che col suo fidato compagno Erinus fa la 35 venerdì, 35 sabato, portando a casa degli ottimi risultati e concludendo il fine settimana nella 40, con un solo piccolo errore. Mi raccomando, se volete vedere i prossimi video, ricordatevi di iscrivervi al canale e se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace e sentitevi liberi di condividerlo con i vostri amici. Alla prossima! Alla prossima!